Prosegue il viaggio itinerante del videogiornale di Teleacras. Tappa nel centro storico di Agrigento. Gli interventi dei residenti. Irene Milisenda. Prosegue il nostro city tour. Oggi tappa nel centro storico di Agrigento. Tra i suoi stretti vicoli, cortili, chiese e piazzette. Una struttura urbana tipicamente araba ma abbandonata, degradata e in parte anche crollata. Sono ancora tanti i problemi. Girovagando lungo la via della cattedrale incontriamo tanti turisti affascinati dal Duomo. Ma proseguendo un po' avanti ci ritroviamo lungo la piazza Don Giovanni Minzoni. Una larga piazza costeggiata da paletti di ferro con delle reti che segnalano lavori in corso. Ma non finisce qui. Proseguendo verso la chiesa Santa Maria dei Gregi e parlando con dei residenti della zona, ci fanno notare la presenza di imparcature montate da un po' di tempo e lavori mai iniziati, lasciati lì come se fossero dei souvenir. Palazzi crollati e ancora buche, ingressi con scale troppo ripide, marciapiedi rivelti e scivoli non adeguati. Sono solo alcune delle barriere architettoniche che rendono difficile, se non impossibile, a un disabile muoversi, tanto più se è in carrozzina. E a tal proposito uno dei residenti della zona ci racconta che, stanco delle tante telefonate ai vigili urbani, ha chiesto personalmente al commissario di Agrigento, Lugiana Giammanco, che presiede il comune, di provvedere almeno alla riparazione di alcune delle buche, per permettere al fratello disabile di poter uscire di casa e non rimanere prigioniero. Richiesta che è stata accolta e in poco tempo alcuni dei problemi sono stati risolti, anche se c'è ancora tanto da lavorare. I cittadini chiedono soltanto alla nuova amministrazione, al nuovo sindaco, che si occupino del centro storico, una grande attrattiva turistica con tutte le meraviglie che ha da far conoscere. I problemi qua ce ne sono abbastanza, perché se voi notate qua c'è un'imbarcatura di un bonte che già non si può più respirare. Con le macchine siamo rimasti proprio incastrati perché pure hanno messo delle pietre e non si capisce quanto si devono togliere. Giustamente qua noi abbiamo la situazione di mio fratello che è sulla sedia a rotelle, non può uscire di casa. Non sappiamo più cosa fare, non si respira più perché c'è una puzza irrespirabile. Ora non lo so, vedete di fare intervenire qualcuno tramite voi, più di questo non possiamo fare, che così siamo proprio arrivati. E per quanto riguarda le buche che già sono state tappate, è stata una vostra richiesta? Ieri io due giorni fa ho telefonato al commissario di Agrigento, ho parlato con la segretaria e la segretaria mi ha aiutato, mi ha fatto venire una persona, subito, dopo un giorno hanno fatto pure dei lavori. Lavori così così diciamo, bene o male, però si deve vedere perché qua siamo in una situazione bruttissima, non si può andare più avanti così. Quello che esiste da Agrigento, buche, spazzatura, quello che sta dicendo lei, è dappertutto che è Agrigento così, ma non ne dà adesso. Siamo amministrate molto bene dalle persone che amministrano, o che è vero, adesso andiamo a votarli nuovamente. Il centro storico è stato dimenticato, ma non dà adesso, da 30 anni a questa parte, e magari, quando dovevano arrivare i contributi e non sono mai arrivati perché non... Io personalmente ho una domanda al comune per una ristrutturazione di una casa, completamente si poteva avere un contributo regionale a tasso perduto, ma chi è? Io li metterò a tasso perduto. L'abbandono del comune sicuramente, questo è il problema che ci sono qua, io penso. Perché gli abitanti del centro storico facciamo quasi tutto il possibile per fare qualche cosa, però da soli io penso che non riusciamo a fare tutto questo. Ma qualche cosa si è risolto e qualche cosa c'è sempre. La mancanza sempre delle strade che non sono tanto pulite perché i turisti che vengono non sanno, diciamo, insegne tipo dove è la cattedrale, dove è Santa Maria, a queste cose come i turisti arrivano e non hanno un, come posso dire, una guida, una guida, poi qualche cosa, le strade sono quelle che sono, vedi là, i buchi, non è che c'è una manutenzione vera e propria. Purtroppo il comune dice che per ora soldi non ce ne sono.